care e cari fans è stato un 2019 gonfio e pregno di applausi siamo partiti con il musical giovani emozioni abbiamo fatto il tour estivo che si è concluso con tsunami a rhapsody il secondo raduno timido che tutte le tribute band dei queen ci stanno ancora invidiando in autunno poi un ritorno alle origini stand up and songs chitarra e voce all'insegna del minimalismo e dell'intimità il bilancio dell'anno timido 2019 è positivo ma con un pizzico di rammarico la scorsa estate infatti mi sarebbe piaciuto organizzare un grande party sulla spiaggia poi ho visto che un altro collega stava allestendo una cosa simile e io ho lasciato spazio perché sono magnanimo tutto questo però mi ha fatto riflettere facile fare delle feste estive in agosto sulla battigia perché non fare delle feste estive in inverno al chiuso nasce così la novità timida per il 2020 il ruggiero squirt party per ricreare le stesse emozioni della spiaggia senza il fastidio della sabbia e di tutta quell'affa un percorso che partirà da inizio febbraio fino all'equinozio di primavera dove con grandissima umiltà darò il via ufficiale alla bella stagione non so ancora cosa succederà posso dire che sarà una specie di live che diventa una festa di carnevale trani è una saga no è più un karaoke un musical revival anni 60 è un trap edm reggaeton hips celebreremo non solo matrimoni ma anche divorzi matrimonio con se stessi divorzi da se stessi al dia annubilato e tutto quello che veramente a voi che sarete i veri protagonisti di questa festa poi ospiti illustri e se come penso ci daranno buca garantisco la presenza di sosia imitatori nani in sostituzione ciliegina sulla torta l'imperdibile trend di questi anni a fine serata mi metterò personalmente alla console e come i più grandi influencer dei nostri tempi farò finta di fare il dj ma farò finta da dio come nessuno ha fintato finora perché ruggero square party è un luogo magico dove ognuno decide di essere se stesso ma se essere te stesso non ti piace puoi benissimo credere di essere qualcun altro io ci ho costruito una carriera sopra buon anno a tutti vi aspetto a presto le date sull'internet un abbraccio a voi alla famiglia buon 2020 umidamente ruggero grazie a tutti